30 milioni di euro per far ripartire Andria. Il finanziamento è stato approvato ieri dalla conferenza Stato-Città indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuta eccezionalmente in collegamento internet da remoto. Il fondo destinato alle città che sono in predissesto e hanno proposto al Ministero dell'Economia il piano pluriennale per il rientro dalla debitoria è stato implementato nella legge di bilancio. Andria ha approvato in Consiglio Comunale la rimodulazione del piano di rientro 2018 l'11 marzo allo scadere del termine fissato per il 12 marzo mettendosi così nella condizione di poter accedere a questo fondo straordinario che viene assegnato però in base alla valutazione di tre parametri come abbiamo già spiegato nei giorni scorsi. bassa capacità economica pro capite e Andria è rientrata pienamente con il suo record negativo che ne fa una delle città con il ridito pro capite tra i più bassi d'Italia. L'indice di vulnerabilità sociale è il secondo parametro che la comunità andriese ha soddisfatto anche qui tutt'altro che l'usinghiere, le caratteristiche valutate tra cui c'è l'indice di alfabetizzazione, l'indice dei giovani fuori dal mercato del lavoro, il sovraffolamento abitativo. Il terzo punto era quello che metteva in forse la possibilità di accedere al finanziamento. Il deficit strutturale delle casse del comune che richiede il contributo non deve essere determinato da patologie organizzative dell'ente ma da condizioni socio-economiche della collettività. La scarsa capacità dell'ufficio tributi di riscuotere le tasse non è stata considerata preponderante e quindi Andria ha potuto rientrare nel finanziamento. 20 milioni di euro saranno erogati nel 2021, altri 10 nel 2022 e su una debitoria complessiva dell'ente stimata in 90 milioni di euro lo sconto ottenuto sul piano di rientro è molto consistente. Questo permetterà forse di stralciare definitivamente l'elenco dei beni di proprietà comunale da mettere in vendita e su cui la maggioranza di centro-sinistra ha rischiato la spaccatura. Vendere il circolo tennis, la struttura di via Bari e un terreno su via Lotti consentendo la cementificazione di aree standard non dovrebbe essere più tema all'ordine del giorno.